SONO NO. Sono nato nel 1976 e sono finito in Italia all'età di quattro anni. Mio padre aveva fondato molte fabbriche, in Congo. ne aveva un progetto di costruire alcune cose anche qua in Italia e ho fatto venire su anche noi fratelli, noi figli praticamente e ci siamo stabiliti a Imola La nostra vita a Imola consisteva in una vita da ricchi praticamente ricchi strani, ricchi africani diciamo avitavamo in questa villa enorme, cioè su tre piani praticamente io e Jadi che siamo due fratelli gemelli eravamo i più piccoli del gruppo di fratelli che erano in Italia avevamo degli inservienti che ci curavano, dei precettori che ci insegnavano l'italiano Allora la mia famiglia praticamente siccome avevano un affare molto grosso con altri soci italiani così e anche africani ci sono mangiati i soldi tra di loro, ci sono fregati tra di loro e anche mio padre ha caduto in crisi ed è scappato io in Africa con mio padre, ha ricercato dalla polizia per accumulo di debiti e a noi fratelli ci hanno lasciati qui in Italia Ah, è proprio voglia, cioè in quei momenti c'è la carica, vogli fare a botte come un matto poi dopo ti passa, no? Perché vedi che... Noi qui studiavamo, no? E in Africa ci sono meno opportunità soprattutto a Brazzavir così e quindi hanno pensato bene di lasciare che crescessimo qua in Italia considerando poi che in un futuro sarebbero tornati a prendersi così Per me sono momenti, cioè non ricordo per niente perché ero piccolo, no? Però io ricordo, no? Il periodo in cui scappò mio padre coincise praticamente con la nostra casa che prendeva fuoco e mio fratello più grande usava studiare di notte e fare i compiti e usava una candela per non svegliarsi e allora si è addormentato con la candela accesa e la casa ha preso fuoco per me quello è stato un po' lo scatto, no? dell'abbandono della famiglia perché da lì siamo passati ovviamente in mani dell'assistenza sociale, no? dell'USL Allora, il periodo di prima adesso si intitola madre e parla praticamente dei rapporti che hanno certi ragazzi con i loro genitori, non molto belli I miei genitori, il progetto che avevano di rapportarci in Africa alla fine non ha mai preso piede e anzi il nostro rapporto è sfumato negli anni nei confronti dei miei genitori non ho nessun rancore voglio dire alla fine cioè le cose sono andate in questo modo e a me sono andate bene alla fine Siamo stati affidati a degli istituti tra cui, non so, dei collegi, sorti di orfanotrofi vari Alla fine di quei 17 anni e mezzo quelli dell'USL, praticamente gli assisti sociali hanno bene pensato di intrometterci nel mondo civile praticamente, no? e ai tempi ricordo che stava ancora finendo le scuole superiori e lì abbiamo cominciato a svangarcela da soli praticamente In questi anni ho fatto un po' di tutto, no? L'operaio, la fabbrica, l'attacchino, il Pony Express, l'autista Il classico annuncio sul giornale avrei bisogno di un cuoco, aiuto cuoco in questo caso si presenta questo ragazzo abbiamo fatto la scuola a Berghiera un ragazzo che aveva veramente volontà, non si può legare a... Perché aveva bisogno appunto di lavoro e lui il lavoro che sa fare è il cuoco devo dire che lo sa far bene diciamo se qualcuno mi dovesse chiedere ma già te è una persona che scoppia di voglia al lavoro o no? Potrei tranquillamente rispondere, dipende da come si è alzato Sicuramente se quando lavora invece di tenersi quei capelli tutti pensoloni se li fosse legati o se invece di mettersi a mettere sdrucita se ne metteva una stirata la sua bella figura vorrebbe fatta insomma Quando sono uscito dall'assistenza sociale nessuno mi ha detto che potevo prendere una cittadinanza italiana entro un anno dalla maggior età Sicuramente una persona a vent'anni non si pone certi problemi Quando mi sono trasferito da Imola a Bologna non ho pensato assolutamente di fare il... di dichiarare il mio cambio di residenza alla polizia per cui mi hanno cancellato dall'anagrafe In questo è un po' troppo leggero Pertanto risulto residente in Italia da circa 4-5 anni e per avere la cittadinanza italiana devi essere residente in Italia da 10 anni E lui mi ha convinto di essere in Italia e invece non c'era cioè c'era più o meno come se fosse un clandestino cosa incredibile perché vuoi evitare da 20 anni Io non ho avuto niente di quello che avete avuto voi Gioia! Il calore di una famiglia! Cioè è inevitabile che mi senta italiano dal momento che ho sempre vissuto qua sono cresciuto in condizioni in cui intorno a me si respirava l'aria italiana gli amici erano italiani, le ragazze erano italiane quando ero più piccolo diciamo già anche a me scioccava vedere dei neri per strada perché era una cosa strana in un paesino come Imola soprattutto La prima volta in cui mi sono sentito straniero è stato quando i miei compagni di classe si avvicinavano all'età in cui potevano andare a votare parlavano della situazione politica in Italia e di chi avrebbero votato e io non potevo farlo Sono un negro, ho la pelle scura e quindi la gente mi vede come un immigrato e non posso non vivere ciò che la gente vede in me A volte mi capita che gli stessi neri si incazzano con me perché mi vedono occidentalizzato troppo mi dicono ah ma tu ricordati che vieni dall'Africa e tutte le altre porcherie Non ho mai avuto un lavoro fisso, cioè ne ho avuti pochi perché perché lavori fissi mi prendevano troppo tempo Niente, volevo sapere se avete i libri di Giadele Gallo Ho iniziato a scrivere con le canzoni Fottila! 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 Automaticamente ho portato avanti questa passione della scrittura che poi si è tradotta in poesia finché intorno ai 18 anni ho cominciato a scrivere dei racconti e poi i racconti si allungavano finché ho scritto il mio primo romanzo e a 19 anni l'ho spedito alle case editrici I dati che ho scritto mi sconcertò all'inizio abbastanza perché era scritto diciamo con una prevalenza del linguaggio emozionale sul tessuto narrativo aveva insomma detto molto francamente delle parti assolutamente indecifrabili Quante cose ancora potevano accadere? Cosa avrei donato a quel figlio mio? Una sorta di romanzo autobiografico che parla un po' della mia esperienza di quando sono arrivato in Italia ai miei fratelli Sì, mi sono chiesto se il mio interesse per questo romanzo verso la notte Baconga fosse dovuto alle sue componenti di africanità C'è questo ricordo ancestrale del villaggio, dei riti addirittura quest'Africa che trasborda sulle colline bolognesi però non era soltanto questo, sicuramente no la cosa che mi affascinava era il linguaggio Io se avessi i soldi sarei messo tre volte a pezzo di lui che mi comprerei delle macchine ultra sborone cioè ne andrei a distruggere tre o quattro le regalerei non so perché sono fuori nelle lunghe sedute che abbiamo fatto insieme per fare l'editing del suo romanzo io gli dicevo guarda che se tu mi dici che un personaggio se ne stava retto in piedi accanto alla porta retto non vuol dire ritto, vogliono dire due cose diverse una persona retta è una persona che si comporta uno che sta ritto vuol dire che sta a piombo lui ci pensavo un po' e mi diceva si però retto suona meglio Giade, non è una musica, no, è una musica ma com'è che stanno vendendo? ci stanno muovendo abbastanza bene i giorni d'artista Sire è questo che tento di raccontarvi di quando mi sentivo ancora un artista Sire di quando mi credevo un coniglio con la testa di cane un ragno senza zampe che devora un elefante ed è difficile da spiegare perché è un romanzo su due piani che tiene un po' il registro shakespeariano però narra di uno scrittore praticamente che si innamora dei suoi personaggi fino a interferire nella loro storia d'amore siamo sempre più attraversati da flussi di informazioni in una quantità tale da renderli inassimilabili in termini di sintesi il lavoro di sintesi sulla lingua e anche sulle narrazioni, sui miti contemporanei che fa Giadelline è molto utile per ridurre la complessità di questi flussi e ridurla creativamente le mie giornate passavano simili a quelle di un bastardo di un miserabile ibrido a cui piaceva stare accovacciato sul davanzale della finestra da lì pensavo e fischiettavo da lì guardavo in alto e intravedevo le cose del cielo poi chinavo gli occhi e vedevo gli schiaffi del mare seppure di sotto c'era l'asfalto Giadelline abita la lingua italiana come un territorio che lui attraversa da nomade ad esempio l'uso di parole presi in prestito da romagnolo in quanto è cresciuto a Imola arriva come una sorpresa totale per il lettore ad esempio orello per dire buco del culo che viene direttamente da urel che è la parola che si usa in Romagna che è fatto da un africano lascia attoniti ok, grazie grazie a te Gabriele ciao, tante belle cose è meglio se scrive quello sicuramente sì se poi a casa fa dei piatti carini per la compagna sicuramente la conquisterà per Giadelline io prevedo un futuro in salita, sfolgorante io ho la temperatura del momento per quanto riguarda l'universo degli scrittori da New York fino a Timbuktu è l'unica scatturigine del momento e proviene dalla mente di quest'uomo straordinario per scrivere ci vuole molta tenacia molta pazienza, molto tempo, molte ore e Giadelline non sembra avere tutte queste doti anche se tenacia ce l'ha a me è colpito molto il fatto che si sia autoridotto le ore di lavoro e quindi anche i suoi introiti per avere più tempo per scrivere allora il mio permesso di soggiorno scade nel 2002 e secondo la legge Bossi e Fini uno straniero per rinnovare il permesso di soggiorno deve avere un contratto di lavoro però io il contratto di lavoro purtroppo non ce l'ho perché scrivo e quindi penso che dovrò escogitare qualcosa ma un contratto di lavoro a Gangbo io glielo proporei a occhi chiusi ma lo dice il termine stesso contratto Gangbo come gli splendidi guerrieri della sue savane è nato per correre libero a perdifiato contratto sarebbe sacrificato i muscoli contratti non gli permetterebbero di librarsi in volo no il volo è adesso adesso viviamo in una cultura che apparentemente fa dell'ambizione individuale una delle proprie pietre angolari l'obbligo burocratico a trovarsi un lavoro fisso priva già delendo il suo diritto all'ambizione prevedo e si auspico per Shadrino un futuro roseo se viene acchiappato da agenti come me se invece viene acchiappato da agenti come quelli di Bolzanetto ecco la vedo molto dura che cosa farò? non ne ho idea non so se mi rimandassero in Africa potrei su un bar in Africa o una barchina come per le piadine ne so mi sembra giusto cacciare gli extracomunitari fuori dal paese mi sembra giusto che nel 1600 gli abitati di questo continente hanno distrutto urbato tutti i beni del nostro ex e scarizzato gli abitati di questo passato ora a noi è rimasto un paese grande è evidente ma dimmi a cosa serve un paese grande se dentro non c'è niente? siamo venuti qui solo per un motivo per vivere e mangiare la gente che dice se ne devono andare 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 dove? a fanculo? fanculo è molto stretto un luogo molto stretto pure è fresco ad andare ad abitare nel ghetto quel posto dove c'è? ecco è